Check papà. Dunque, patatine Lace per te, patatine Lace per me, Lace per la mamma, Lace per tua sorella, Lace per il mamma, Lace per il portillai e Lace per il bagnino. Papà, manca la valigia. Ah già. Una volta provate, non puoi più dimenticarle. Lace, life needs flavor. Si sblocca con uno sguardo e si avvia un video, sembra di essere al cinema. In certi momenti mi chiedo, ma questo smartphone l'ho pagato proprio così? E' incredibile, è nel prezzo. Da Expert con lo svuotatutto, il meglio è scontato fino al 50%. Smartphone Samsung Galaxy J6 con infiniti display e riconoscimento del viso a soli 229 euro. Grazie, Expert. Gli esperti sempre con voi. Questo entrerà nella storia. La storia di Roma. Mamma mia. E' assurdo. E' una roba incredibile. Entra, entra.